Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6, sbloccati circa 3 milioni e mezzo di euro dalla regione Abruzzo per gli incendi che hanno colpito domenica scorsa Pescara, la costa dei Trabocchi e il Terramano. Sull'argomento duro attacco delle opposizioni, bisogna intervenire prima che accadano tali eventi. Il servizio di Stefano Recanati. 405 mila e 500 euro è la somma stanziata dal Consiglio regionale d'Abruzzo per la gestione dell'emergenza incendi dei giorni scorsi. I fondi arrivano grazie ad un emendamento al progetto di legge dedicato alla copertura dei debiti fuori bilancio di Abruzzo e Engineering SPA. A gestire questa somma sarà il servizio di protezione civile regionale. Con lo stesso emendamento inoltre la Giunta si impegna a utilizzare le risorse comunitarie e nazionali derivanti da economie per una prevista variazione di bilancio pari a 3 milioni di euro. Questi ulteriori fondi saranno finalizzati al ripristino, al recupero e alla valorizzazione delle aree interessate dagli incendi e per opere di prevenzione e salvaguardia degli stessi luoghi. Sostegni ulteriori previa quantificazione del danno saranno destinati agli agricoltori e alle riserve naturalistiche danneggiate dai roghi. In più, sempre in materia di emergenza incendi, vengono previste iniziative per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture private ad uso agricolo e zootecnico, utilizzate dalla protezione civile per il pescaggio dell'acqua utile agli spegnimenti. Per l'approvazione di questo emendamento sono arrivati voti favorevoli anche dai banchi dell'opposizione, i quali però polemizzano con l'attuale governance sulle risorse tagliate per quanto riguarda la Convenzione con i Vigili del Fuoco. E' il momento nel quale però bisogna anche sottolineare che le risorse erano state tagliate nella Convenzione che riguardava i Vigili del Fuoco e che bisogna dunque chiedere maggiore riguardo, più attenzione, più prevenzione, migliore programmazione anche per quanto riguarda la campagna della prevenzione degli incendi boschivi in questa regione. Il governo regionale, il governo Marsilio debbono prestare più attenzione su questo ed oggi debbono avviare immediata istruttoria per chiedere lo stato di emergenza nazionale e allo stesso tempo progettare in modo solido e convincente quelle che sono le risorse a disposizione per la tutela e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente con il PNRR. Ciò che però siamo costretti a constatare è che ancora una volta questa giunta regionale si è dimostrata incapace di lavorare sulla previsione. Il duro attacco di Sara Marcozzi, consigliera del Movimento 5 Stelle. Sappiamo bene che in Abruzzo nel periodo estivo si creano episodi di questo genere ogni anno eppure nemmeno questo basta la giunta Marsilio per attivarsi. Intanto già scattata la gara di solidarietà dopo l'appello del senatore del Partito Democratico, Luciano D'Alfonso, e da cui hanno già aderito banche ed imprenditori. Nella città di Pescara, per far fronte al danno causato dal ruogo che ha distrutto circa 12 ettari, tra cui la pineta dannunziana, il sindaco Carlo Mascia ha intenzione di far aprire un conto corrente per permettere a tutti di contribuire, visto che si parla di danni per diversi milioni di euro. Sono passati tre giorni da quegli incendi che hanno devastato, tra le altre, la riserva dannunziana. Si fa largo l'ipotesi di dolo, mentre gli inquirenti procedono con i rilievi del caso e ascoltano i primi testimoni. Intanto è polemica sulla riserva naturale integrale dove sono proibiti gli interventi dell'uomo. Giuseppe Dintino. È spettrale il paesaggio della pineta dannunziana, polmone verde, simbolo del capoluogo adriatico. Le immagini delle fiamme che hanno inghiottito il sud della città rimarranno indelebili nelle menti dei pescaresi che ora fumano, ma di rabbia, all'ipotesi che l'incendio possa essere stato doloso. Dietro c'è sicuramente la mano dell'uomo, aveva detto a caldo il presidente Marsilio, teoria ripetuta anche il giorno seguente. Per accertare l'ipotesi del dolo la procura ha aperto un'inchiesta. Ieri è arrivato da Roma il nucleo antincendio boschivo dei forestali che ha fatto dei sopralluoghi e gli investigatori stanno vagliando anche i rilevamenti di fotogrammetria dei droni. L'incendio sarebbe scaturito dal comparto 5, un lotto completamente naturalistico, poi il vento caldo, le temperature altissime, la vegetazione secca e la resina dei pini hanno fatto il resto. I testimoni su questo sono concordi, il primo focolaio si sarebbe acceso vicino a via Pantini intorno alle 14.30. C'è poi chi dice di aver visto un quad sospetto a girarsi nei pressi di strada con le breccia, dove un secondo fuoco si è acceso a circa un chilometro e mezzo di distanza dal primo, quello nella riserva d'Avalos. Un'altra testimonia avrebbe riferito di aver visto tre focolai di vampare nella pineta a intervalli di mezz'ora. Ho chiamato i soccorsi, avrebbe detto la donna, ma nessuno ha risposto. Due elicotteri Uncanader dei vigili del fuoco, insieme a protezione civile e volontari, hanno poi scongiurato il peggio impedendo che le abitazioni andassero a fuoco. Fuoco che però non ha risparmiato nemmeno la spiaggia, mandando in fumo gli ombrelloni degli stabilimenti balneari. L'aereo di soccorso sarebbe intervenuto ore dopo le prime fiamme. Sono solo 15, infatti, i Canadair a disposizione della flotta italiana, distribuiti su 16 basi e domenica sono stati 1.508 gli incendi lungo la penisola. Gli esperti intanto ricordano che l'autocombustione è un fenomeno rarissimo, circa l'1% dei casi. Se è stato qualcuno a dar fuoco a Pescara, bisognerà capire se il reato è stato colposo o frutto di un diabolico disegno, tramato con chissà quale finalità o guadagno. In questi giorni prosegue la bonifica della zona, alcuni alberi saranno abbattuti per questione di sicurezza, ma il testo unico nazionale sull'incendi prevede che per 5 anni le piante secche non possono essere rimosse, salvo deroga da parte delle autorità competenti. La pineta divenne riserva 20 anni fa su impulso della regione Abruzzo, che ne circoscrisse circa 53 ettari, di cui oltre 30 senza possibilità di interventi umani, così da salvaguardarne il patrimonio naturalistico. Ed è proprio su questo che ora si accende la polemica, perché la vegetazione in colta potrebbe favorire il dilagare del fuoco. Ci vorranno almeno 15 anni per vedere le prime piante di Pino d'Aleppo alte 4 metri. Questo dipenderà molto anche dalle operazioni che l'uomo intenderà fare, nel senso che fin tanto che lì resterà con lo status di riserva, le operazioni a favorire il ritorno più veloce della pineta le vedo dure da attuare. C'è bisogno di un cambio nella gestione della pineta d'Avalos, riserva d'Annunziana, in quanto lo status di riserva sostanzialmente non ha favorito né la prevenzione antincendio e né tantomeno favorirà allo stato attuale, se non si modificano i vincoli, quello che è il suo rimpianto, perché in una città non si può imporre un vincolo a non manutenere con la vicinanza delle case, con tutto ciò che deve essere fatto per la sicurezza pubblica. C'è bisogno di uno sforzo a cogliere un tipo di gestione che può favorire la conservazione, il miglioramento, la biodiversità dei boschi piuttosto che abbandonarli e renderli anche più soggetti agli incendiari che purtroppo ci saranno sempre e se queste superfici rimarranno incolte saranno anche più difficili da spegnere. Non si è fatta attendere la risposta del sindaco Masci, in un lungo post sui social il primo cittadino ha affermato che l'ultimo intervento comunale di pulizia è avvenuto tra il 20 e il 23 luglio, nove giorni prima dell'incendio, ma solo in quelle parti della pineta dove è consentito intervenire. La pineta di Pescara rinascerà più bella di prima, ha concluso fiducioso il sindaco. Cambiamo pagina, sono 126 nuovi casi di covid rilevati nell'ultimo bollettino ma scendono i ricoveri in area medica. Intanto la ASL di Teramo ha raggiunto il 70% della popolazione provinciale vaccinata con la prima dose e quasi il 59% con la seconda. Incoraggianti i dati per le fasce più giovani anche in vista della riapertura delle scuole. Vediamo. Nuova impennata dei contagi ma scendono i ricoveri e questa l'estrema sintesi del bollettino covid odierno. Sono 126 nuovi casi di coronavirus compresi tra 2 e 90 anni rilevati dopo aver processato 5.174 test, 2.812 molecolari, 2.362 antigenici con un tasso di incidenza che più che raddoppia rispetto a ieri, salendo al 2,43%, un dato tra i più alti di questo periodo. I casi totali da inizio pandemia sono 76.741, gli aumenti dei casi sono di 39 in provincia di Pescara, 38 in quella di Teramo, 22 in quella dell'Aquila, 16 in quella di Chieti, 6 di fuori regione e per 4 sono in corso accertamenti sulla provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti non registrano i casi e resta fermo a 2.515. Scendono invece i pazienti ricoverati in area medica, sono 39, meno 3 rispetto a ieri, mentre è invariato il dato delle terapie intensive con un solo ricovero. 1.494 i pazienti in isolamento domiciliare, più 66 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono 62 i dimessi guariti, mentre sono aumentati di 63 unità gli attualmente positivi in Abruzzo, che ora sono 1.534. Intanto la ASL di Teramo ha comunicato che nel mese di luglio ha eseguito 96.417 somministrazioni di vaccino, 18.591 prime dosi e 77.826 seconde dosi. Nella giornata di ieri, con le 2.564 vaccinazioni eseguite, l'azienda Teramana ha raggiunto oltre il 70% dei 301.814 cittadini della provincia, pari a 211.541 persone vaccinate con la prima dose. La seconda è stata somministrata a 176.224 cittadini, pari al 58,39% della popolazione Istat. Il dato più significativo, commenta il direttore generale Maurizio Di Giosia, è relativo alla fascia di popolazione 17-19 anni. Ha ricevuto la prima dose il 94,25%. Questo dato è molto importante, unito a quello della categoria 12-16 anni e in aggiunta alla percentuale di personale della scuola, docente e non docente, che arriva al 96% di immunizzati. Fra coloro che sono iscritti nella piattaforma regionale, conclude il manager dell'azienda Teramana, ci permette di guardare alla riapertura della scuola con maggiore ottimismo. Mattinata a Montesilvano per il ministro alla disabilità Erika Stefani, nella sua visita in Abruzzo. La Stefani ha visitato appunto la spiaggia senza barriere, dove è stata accolta da numerosi ragazzi. Paolo Renzetti. Una giornata tutta abruzzese, quella di oggi per il ministro per le disabilità Erika Stefani, che questa mattina ha visitato la spiaggia accessibile Mare senza barriere sul lungomare Aldomoro di Montesilvano. Ad accorgerla il sindaco della città adriatica Ottavio De Martinis, l'assessore comunale alle politiche sociali Sandra Santa Venere, il consigliere delegato alla disabilità Giuseppe Manganiello e il responsabile dell'ufficio disabili Claudio Ferrante. Non è mancato un momento musicale ed il classico canto dell'inno di Mameli. Il ministro ha potuto apprezzare dal vivo la funzionalità della spiaggia, che rappresenta una delle eccellenze in Italia per l'abbattimento delle barriere architettoniche sulla spiaggia. Abbiamo qui di fronte a noi uno degli esempi di turismo accessibile, sui quali abbiamo cercato anche di fare un investimento ulteriore con l'ultimo decreto con il quale abbiamo stanziato anche dei fondi proprio per permettere a che le nostre spiagge, i nostri borghi, le nostre città siano il più aperte possibile. Dobbiamo fare entrare veramente tutti, tutti hanno il diritto anche di godere delle vacanze e di visitare le nostre città. Questo è uno degli esempi dove si vede come il mondo delle disabilità è bello. Non dobbiamo pensare a un mondo delle disabilità è legato a qualche corridoio, dico io dell'Inps, ma non perché ce l'abbia con l'Inps, era soltanto un'immagine, ma dobbiamo pensare proprio come una grandissima famiglia, un grandissimo modo di interpretare la nostra civiltà stessa. Il PNRR ha stanziato più di 6 miliardi di denari che andranno a rimbalzare sul mondo delle disabilità in modo diretto o indiretto. Nel momento in cui rifai una stazione ferroviaria e la fai accessibile tu stai dando una risposta anche al mondo delle disabilità. Con l'avvio della stagione turistica estiva i carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, hanno realizzato una campagna di controlli negli stabilimenti balneari e relativi esercizi di ristorazione, bar e ulteriori servizi forniti a favore dei vacanzieri ubicati nelle aree costiere marittime e dei laghi, eseguendo fino ad oggi 886 controlli. Le attività condotte su tutto il territorio nazionale hanno riguardato in particolare la verifica dell'attuazione delle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19. Tra le attività più rilevanti, quella effettuata dai NAS di Pescara, che dal controllo di due stabilimenti balneari ubicati a Pescara e Ortona, con annesse attività di ristoro, sono risultate gravi carenze igienico-sanitarie e in un caso l'attivazione abusiva di un deposito di alimenti. Le criticità riscontrate hanno determinato rispettivamente la sospensione delle attività di ristorazione e la chiusura del magazzino. A Francavilla al Mare, a seguito di ulteriore controllo eseguito in un altro stabilimento balneare con annessa attività di somministrazione, è stata segnalata la titolare per aver detenuto per la successiva somministrazione alimenti scaduti, privi di tracciabilità e congelati abusivamente. Sequestrati 22 kg di alimenti non idonei al consumo umano, i quali sono stati avviati alla distruzione. Problemi per gli impianti per il nuoto, l'Abruzzo non fa eccezione, l'emblema in negativo è la perdurante chiusura delle piscine Lenaidi di Pescara. Il servizio. Si parla di nuoto, si parla anche di impianti, c'è stata la ripartenza in queste ultime settimane dopo l'emergenza sanitaria che comunque è ancora in atto, c'è anche una problematica degli impianti nel nostro paese e anche in Abruzzo, insomma si sta ripartendo però qualche problema per quanto riguarda gli impianti c'è ancora? Sì, è stata comunque una stagione un po' complicata, complessa con tutte le restrizioni dovute ovviamente al contingentamento del Covid, quindi in questo momento dove c'è una piccola ripartenza soprattutto per gli impianti all'aperto è ovvio che ci troviamo ancora ad affrontare delle problematiche rispetto a quello che è tutta la parte e tutta l'attività che ci andiamo un pochettino a ripristinare per la parte invernale, quindi con gli impianti al chiuso. Da poco è uscito anche un nuovo decreto, quindi adesso ci sono ulteriori restrizioni e stiamo ovviamente con tutte le strutture, con tutte le associazioni, si sta costruendo quello che è tutto un iter nuovo da dover affrontare per cercare di non aggravare quella che è una situazione degli ultimi mesi e quindi poter mantenere gli impianti sempre aperti secondo le normative vigenti ovviamente. Tante società hanno avuto delle difficoltà, qualcuno purtroppo, dobbiamo dirlo, anche non ce l'ha fatta a superare questo momento e quindi è ovvio che da adesso in poi si spera che non ci possa essere di nuovo una chiusura come è stato nell'ultima stagione, ma bensì riuscire a riprogrammare anche con un tempo un pochettino più importante rispetto a quello che sono magari a volte degli appalti o delle cose per poter riprogrammare un po' più serenamente quello che sono sia degli investimenti ma soprattutto ammortizzare quello che può essere uno sviluppo dell'impianto che ripeto ha dei costi di gestione e dobbiamo anche ricordarci che se un impianto è stato chiuso anche dei costi di riattivazione dell'impianto è comunque qualcosa di importante che grava sulle associazioni, sulle società che gestiscono direttamente l'impianto. E ora ci spostiamo a Teramo, si arricchisce di un catalogo fotografico, l'esposizione d'arte contemporanea Pressure con l'intento di cristallizzare nel tempo una mostra che unisce passato e presente che per Teramo rappresenta la ripartenza culturale post-covid e la riapertura degli spazi dell'arca. Vediamo. Fin dall'inizio avevamo ipotizzato una cosa, che il catalogo diventasse una sorta di piccolo segnale, simbolo della riapertura dell'arca, non soltanto con questa mostra ma anche attraverso un catalogo che testimoniasse la vera e propria riapertura, perché almeno per quanto mi riguarda negli anni in cui ho avuto l'onore e il piacere di dirigere in quanto direttore artistico il Laboratorio per le Arti Contemporanea, appunto l'arca, c'era sempre stato un catalogo. Il catalogo arriva, il catalogo è bilingue, è un catalogo che segnala particolarmente l'identità della mostra, cioè quindi le opere esposte, c'è anche un video che da sempre ha accompagnato questa mostra di Bellandi, un artista che ha lavorato sul monotipo, da degli scatti di Giampiero Marcocci, fotografo terramano, carissimo amico. Il finale del catalogo è anche legato ad una serie di artisti che espongono e che si vedono al lavoro nella stamperia artigrafiche della Torre, che in qualche modo è il deus ex machina di tutto questo progetto e che vede anche in queste fotografie la collaborazione di artisti che in questo caso, o di autori che non sono direttamente collegati alla mostra, ma sono importantissimi. Uno per tutti Tonino Guerra, grandissimo, indimenticabile sceneggiatore insieme a Fellini di Amarcord è il grande architetto Mario Botta. Pressure quindi vuole essere la significativa testimonianza dell'amministrazione di Teramo di far sì che l'Arca ritorni a vivere dopo il Covid e sicuramente ci saranno degli altri eventi dopo Pressure e quindi Pressure è stato l'elemento simbolico di testimoni per far sì che questo spazio diventi sempre più uno spazio di riferimento per i terramani e per l'arte contemporanea. Si darà sabato 7 agosto la prima edizione della nuotata città di Pescara, manifestazione organizzata dalla ASD Pescara Open Water in collaborazione con la WISP. Vediamo. Sabato 7 agosto le acque antistanti, la fontana di Cascella, ospiteranno la prima edizione della nuotata città di Pescara che vedrà al via oltre 150 atleti provenienti anche da fuori regione. Oltre alla competizione in acque libere ci sarà anche una dimostrazione dei ragazzi diversamente abili. L'organizzazione dell'evento è curato dalla ASD Pescara Open Water in collaborazione con il settore nuoto della WISP Abruzzo e Molise. Un evento importante, per la prima volta una grande collaborazione insieme all'assessore alla disabilità. Avremo la possibilità di ospitare 150 atleti provenienti da tutto sul territorio nazionale con diversi bambini con disabilità diversa. È un evento importante perché per la prima volta quest'estate Pescara ha ricevuto il titolo di Bandiera Blu 2021, quindi andremo a valorizzare ancora una volta le nostre acque. Per la prima volta l'assessore di disabilità insieme all'assessore allo sport insieme hanno avuto questa idea di mettere insieme, perché finalmente dopo un periodo buio si possa aprire per loro un periodo veramente diverso, quindi io sono veramente felice di questa iniziativa. Notata città di Pescara, questa manifestazione è una manifestazione sportiva, però è una manifestazione anche sociale e culturale. Sono tre aspetti che vanno benissimo insieme. perché manifestazione sportiva? Perché prima di tutto ovviamente c'è una nuotata in mare dove parteciperanno sia amatori, sia agonisti e anche ragazzi disabili che poi durante l'anno agonistico si allenano in piscina perché loro partecipano tra l'altro anche regolarmente a delle competizioni, gare regionali che si svolgono appunto in piscina, però estendono queste loro capacità anche alle acque libere, quindi partecipano anche in questo caso simbolicamente a questa nuotata. Siamo allo sport, Gaia Sabatini non ce l'ha fatta a conquistare la finale. Nella semifinale di Tokyo 2020 l'atleta Terramana infatti ha corso in 4 minuti, 2 secondi e 25 primi, migliorando il proprio primato personale, seconda italiana di sempre dopo Gabriella Dorio e miglior crono italiano dal 1984. Purtroppo non basta per l'accesso alla finale olimpica ma comunque una grande avventura per la giovane atleta che con l'ottava posizione resta esclusa dall'ultimo atto che sarebbe valso una potenziale medaglia. Rispinto peraltro un ricorso presentato dalla FIDAL per una caduta che avrebbe danneggiato la Sabatini a metà gara e si ferma ai quarti di finale anche l'Olimpiade del Bicero Ortonese Paolo Nicolai che in coppia con Daniele Lupo è stato eliminato dal duo Catariota Tijan Yunus in due set parziali di 21 a 17, 23 a 21. La coppia Nicolai Lupo è stata la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio del 2016. Siamo al calcio in Casa Pescara, si pensa al post Fiorillo, diversi i profili di portieri al vaglio della dirigenza Bianca Azzurra. Intanto ufficializzata l'operazione con la Ternana, Sorensen ceduto a titolo definitivo, arriva in prestito Marilungo. Potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore l'arrivo sempre dalla Ternana. Dell'esterno Paolo Frascatori, servizio. Fase di fermento per il calcio mercato in Casa Pescara. Di ieri l'ufficialità del tesseramento oltre che di Eugenio Dursi e Franco Ferrari, anche dell'esterno Basso Mancino Alessio Rasi, classe 99 ex Rieti e Vibonese, che ha superato il periodo di prova dopo essersi aggregato al gruppo di Auteri nell'ultima parte del ritiro di Palena. Oggi altre ufficialità, l'arrivo dell'esterno destro Tommaso Cancellotti dal Perugia e poi l'operazione con la Ternana che ha portato Frederic Sorensen in rosso verde a titolo definitivo, mentre ha fatto percorso inverso l'attaccante Guido Marilungo che approda Pescara in prestito. Sorensen già ieri aveva raggiunto il ritiro della Ternana ad Acqua Sparta. Ieri sera a Pescara è arrivato Marilungo che oggi ha svolto la prima seduta agli ordini di Auteri. Al momento problemi per l'arrivo a titolo definitivo, sempre dalla Ternana, di Paolo Frascatore. Peraltro nella giornata di ieri il neopromosso ACR Messina ha cercato un inserimento per l'esterno sinistro, anche se poi nel medesimo ruolo ha annunciato stamani un altro calciatore, Morelli. In attesa della formalizzazione della cessione di Vincenzo Fiorillo alla Salernitana, la dirigenza Biancazzurra è proiettata alla caccia di un sostituto che sia un portiere forte ed esperto per la categoria, tale da garantire prestazioni in una squadra che ha ambizioni. È il caso del 34enne Giacomo Bindi del Pordenone o del 29enne Matteo Pisseri, fresco di vittoria a playoff con l'Alessandria. Nell'elenco anche il più giovane Riccardo Gagno dal Modena, dunque un profilo ben noto al DS Luca Matteassi. Tutti i portieri che hanno scadenza giugno 2022, tra gli svincolati da tenere presente anche Raffaele Di Gennaro, allenato da Auteri a Catanzaro, e il pescarese Alessandro Iacobucci. Le partenze di Sorensen e prima ancora di Scognamiglio aprono una lacuna in difesa che potrebbe essere colmata dall'ex aquilano Gianmarco Ingrosso di proprietà del Pisa. Un interesse del pescare di cui parlammo tempo fa e che non si è mai sopito per un difensore avuto da Auteri a Matera. L'attacco al momento è numericamente a posto, ma in caso di alcune uscite il pescare è pronto ad attingere dal mercato dei freschi svincolati, non solo Giuseppe Panico in uscita dal Novara. C'è anche Manuel Pucciarelli, già a Pescara nella seconda parte della stagione 19-20, nella quale segnò anche l'ultimo gol biancazzurro nel play-out di ritorno a Perugia. Pucciarelli, svincolato d'ufficio dal Chievo, non ha mai negato che sarebbe felicissimo di tornare a Pescara e in C sarebbe un vero lusso. Le ufficiali a Teramo, gli arrivi di due giovani provenienti dal Benevento, il centrocampista Marco Cucurullo, classe 2000, che ha firmato un contratto biennale e Francesco Rillo, terzino sinistro, che arriva invece in presidio secco. Jacopo Forcella. Federico Guidi da oggi avrà a disposizione due giovani rinforzi provenienti dal Benevento Il Teramo, infatti, ufficializzato gli arrivi del centrocampista Marco Cucurullo, classe 2000, che ha sottoscritto con il Diavolo un contratto di due anni. E l'esterno difensivo mancino Francesco Rillo, anche lui 21enne, giunto in Abruzzo non a titolo definitivo, ma con la formula del prestito secco. Cucurullo, nativo di Vico Equenze, nella stagione appena conclusa ha militato nella Cavese, ma ha esperienza anche in Serie D, girone H con la maglia del Taranto. In difesa sinistra arriva invece Francesco Rillo, nato e formato calcisticamente proprio nel Benevento, ha fatto il suo esordio in giallo-rosso in Serie B, quattro presenze nella stagione 2019-2020, per poi scendere in Lega Pro vestendo la maglia del Fano con sette presenze, trasferendosi a gennaio scorso nelle fila della Casertana, con cui ha disputato 15 partite. Doppio arrivo dunque, aspettando che sull'altra corsia di difesa il Teramo ufficializzi anche Cristian Azios Vanovic, anche lui nell'ultimo anno a Caserta con l'attuale tecnico bianco-rosso. Non si registrano novità invece sul fronte Pietro Cianci, l'attaccante è ancora un partente molto più che probabile, ma Padova e Catanzaro stanno facendo ragionamenti ulteriori anche su profili differenti. I contatti con la società calabrese, che è in agenta ha anche il nome di Vano, sono proseguiti anche nelle ultime ore senza però far registrare nulla che la dirigenza giallorossa non sapesse. Alta la richiesta del Teramo per il Barese, che pare godere della stima dei vertici, poca voglia di affrettare i tempi invece per Vano, considerato prima scelta del tecnico calabro. Intanto, dopo il ricorso in Serie B respinto del Chievo Verona, che ha spalancato di nuovo le porte della cadetteria alla Cosenza, oggi è nel turno anche delle squadre di Serie C. Fumata nera anche per la San Benedettese, che già guarda oltre e sta cercando di mettere assieme i tasselli per la nuova società. La sensazione è che anche per Carpi, Casertana e Novara ci sia davvero poco spazio per poter sperare in un accoglimento dei rispettivi ricorsi. Viste le tempistiche però, con la Coppa Italia e il campionato che inizieranno ad incombere, potrebbe esserci presto l'intervento del Presidente federale Gabriele Gravina per mettere la parola fine alla KRL, disegnando gli organici di Lega Pro e procedere alla stesura prima dei tre raggruppamenti e successivamente dei calendari. A tal proposito vi diciamo che i calendari saranno diramati, i calendari di Serie C, lunedì prossimo 9 agosto alle ore 19. Ora scendiamo in Serie D, presentato il nuovo staff tecnico del Nereto che la prossima stagione giocherà in Serie D, l'allenatore Stefano Senigallesi che dopo un'annata amara ad Agnone cerca il riscatto personale con una formazione che torna dopo molti anni nella quarta serie. Ascoltiamolo. Stefano Senigallesi riparte da Nereto dopo un'annata che non è stata semplice, quella di Agnone, con quali prospettive, con quali ambizioni? Speriamo con un po' più di serenità, primo perché è stata un'annata probabilmente la più brutta della mia carriera, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano, sono capitato nel periodo sbagliato, altrimenti sarebbe stata comunque piacevole anche la permanenza da Agnone. Detto questo siamo in una realtà totalmente diversa, con grande entusiasmo, con grande fiducia cerchiamo di entrare in una nuova realtà che credo abbia una gran voglia di ritornare dove è già stata e per tanti anni. Una stagione di esordio per il Nereto nella quarta serie, come se l'aspetta Senigallesi? Siamo curiosi, come credo lo sia tutto il Paese, siamo curiosi di vedere come risponde il Paese, siamo tanto tanto attenti a cercare di essere il più logici possibili per dare un prodotto comunque adeguato alle esigenze di questa realtà. Che tipo di campionato si aspetta Senigallesi senza una vera e propria ammazza campionato? Pineto e Notaresco siano già belle avanti per tentare di fare quello che ha fatto il campo basso, per il resto bisogna aspettare perché siamo ai primordi dell'inizio, quindi il mercato ormai è diventato altalenante, non si fa più come una volta che le cose venivano decise e definite all'inizio, ma si va in itinere, quindi per il discorso anche dei fuori quota, quindi penso che sia meglio aspettare prima di fare brutte figure nel dare giudizi. L'ultimissima, la coppia Senigallesi del Grosso come la vede? Le immaginavo la domanda, è un onore per me perché comunque lui si è dimostrato un ragazzo di un'intelligenza e di una disponibilità incredibile, lui ha fatto un percorso troppo frettoloso su richiesta della società e credo che sia stato anche messo un po' in difficoltà dalle situazioni, però è un ragazzo intelligente che sarà la parte integrante del mio percorso e sono sicuro che lui farà la differenza più di me. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona serata.